Musica Amici di Atti Sport 24, benvenuti ad una nuova puntata di Due Metri da Polla a Nuoto vista da vicino. Abbiamo il grande piacere di avere in nostro ospite il tecnico della Basilicata Nuoto 2000, Vittorio Bruschini. Ciao mister, benvenuto, grazie di aver accettato il nostro invito. Ciao Andrea e grazie dell'invito. Partiamo da quella che è stata la vostra ultima uscita ufficiale. Tocco subito le dolenti note, però meglio togliersi subito questo dente e poi andare avanti. Quale eredità vi ha lasciato la pesante sconfitta che avete incassato a Pescara? Diciamo che sono quelle classiche partite che vanno archiviate immediatamente, che purtroppo non ti lasciano niente di buono, neanche materiale su cui poter lavorare. Quindi ci ha lasciato sicuramente un'eredità di dover fare un attimino i conti con la categoria e scendere un attimino con i piedi per terra quando si vanno ad affrontare determinati tipi di squadre, in particolare in campi difficili come può essere un campo come quello delle Naiadi. E quindi dobbiamo lavorare e dopo queste partite certamente c'è da lavorare sull'aspetto mentale per poter fare in modo di archivare subito il risultato e guardare subito alla prossima sfida. Ti aspettavi alla vigilia una sconfitta così netta dopo un buon avvio di torneo, comprensivo anche del match perso con l'Ischia, ma nel quale comunque avevate lottato per quattro tempi? Allora, sono sincero, prima di andare in campo tu metti in conto una serie di variabili, ma la sconfitta in particolare in quel modo è l'ultima cosa alla quale tu vai a pensare. Se vogliamo parlare su un lungo periodo mi aspettavo la possibilità di un passo falso e anche un passo falso come quello di sabato scorso, perché dopo le prime due vittorie fatte in modo netto, la sconfitta con l'Ischia, ci è mancato solo il risultato, ma comunque la prestazione mi aveva dato buone indicazioni. E' prevedibile che si possa avere un tonfo, perché fai i conti con l'entusiasmo e praticamente vuole un attimino alto quando devi stare ancora con i piedi per terra, proprio per quello che ho detto prima, si vanno ad affrontare delle squadre su campi difficili. E quindi ti ripeto, prima dell'incontro non lo metto mai in conto, però prima o poi poteva succedere, insomma me l'aspettavo, faceva parte delle cose che potevano succedere quando ho iniziato il torneo. Quali sono, a tuo avviso, gli aspetti del gioco su cui la squadra non ha ancora espresso tutto il suo potenziale? Anche perché, ricordiamolo ai nostri spettatori, il tuo è un organico che ha due componenti, quella dei senatori, penso a Capitano di Palma, Pipicelli, Palermo, e quest'anno è rosa dei giovani di talento e di assoluto valore, i ragazzi delle giovani del Posillipo, Serino, Somma, De Florio. Allora, ovviamente dobbiamo, secondo me, ancora, come ho detto all'inizio, la prima intervista che mi ha fatto quest'anno è che questa squadra ha un ottimo potenziale e che ovviamente va sviluppato. È chiaro che, essendo una squadra, come hai detto tu, costruita quest'anno, è quasi, diciamo, del tutto nuova, tolti, diciamo, da alcuni senatori che avevamo già l'anno scorso, è chiaro che più giochiamo, più andiamo avanti nel campionato e più sarà facile mettere in pratica quello che ci diciamo durante la settimana. Quali sono gli aspetti sui quali possiamo migliorare? Sono ovviamente la fase difensiva va sicuramente migliorata, dopo le ultime due partite abbiamo preso un po' troppi gol, quindi dobbiamo lavorare un po' sui meccanismi, diciamo, di difesa e questo sia uomini pari, ma principalmente sull'uomo in più. E poi dobbiamo lavorare sull'attacco, dobbiamo capire che alcune volte dobbiamo comprendere quali sono le fasi della partita e non dobbiamo sempre essere arrembanti, ma dobbiamo sfruttare il cronometro e poi dobbiamo lavorare un po' sulla realizzazione in fase di uomo in più, che è quello che ci sta mancando in queste ultime partite. Hai avuto in organico sempre giovani interessanti e come dicevo prima quest'anno hai veramente dei ragazzi che potrebbero, a mio avviso, anche giocare, se non tutti, almeno qualcuno di loro nella categoria superiore. Allora da tecnico ti chiedo, quanto è formativo per un giovane che poi sul breve e medio termine si andrà ad affacciare alla massima serie, disputare da titolare un torneo come la serie B? È un torneo come la serie B in un girone che è mai come quest'anno ultracompetitivo come il girone 3? Bravissimo, mi ha anticipato la risposta. In particolare questo girone è molto, molto difficile, molto competitivo. Come hai detto tu, questi ragazzi ovviamente sono ragazzi che potrebbero anche affacciarsi direttamente a una categoria superiore, ma ovviamente sono quest'anno chiamati a partecipare, a fare la serie B. E questo torneo è secondo me una palestra importantissima dal punto di vista formativo, sia mentale, sia fisico, tecnico, perché loro non solo si confrontano con compagni di squadra che hanno un'esperienza in questa categoria di tanti anni e si confrontano con squadre che sono attrezzate allo stesso tempo per fare il salto di categoria con giocatori navigati. La serie B io trovo che sia proprio una categoria difficile, anche perché incontri giocatori navigati, le squadre sono miste sia in giocatori esperti sia in giocatori molto giovani. Quindi questo mix molte volte ti fa trovare di fronte a delle sorprese e come hai detto tu devono essere formative. E poi il fatto che ci sia un solo arbitro lascia una serie di imprevedibilità alle quali il giocatore si deve abituare. Quindi sicuramente è un'ottima palestra in chiave futura per la crescita di questi ragazzi che sono stati dati in prestito al circolantico consiglio. Si torna in campo già sabato ed è probabilmente il modo migliore per archiviare come incidente di percorso la sconfitta dell'ultimo turno. Un altro match difficile anche perché con sei squadre teoricamente in grado di lottare per le prime due posizioni abbondano le sfide interessanti. Arriva alla Scandone la Radinante e Sarechi. Che partita ci possiamo immaginare? È una partita sicuramente dal risultato triplo, 1x2, non c'è dubbio. È chiaro che è una partita che affrontiamo dopo il passo falso di Pescara e dopo la sconfitta con Lischia. Quindi abbiamo voglia di fare punti fondamentalmente. Sappiamo che di fronte abbiamo una squadra che viene alla Scandone per vincere. viene insomma per poter fare il risultato pieno certamente. È chiaro che come hai detto tu in questo girone c'è grande equilibrio. Quindi abbiamo visto il risultato di sabato scorso della CESPORT, abbiamo visto il derby del circolo di Salerno con la RECI, quanti ribaltamenti di risultato ha avuto e abbiamo visto la partita della RECI con il Pescara Nuto e Pallanuto. Quindi è chiaro che è una partita insidiosa che affrontiamo con massimo rispetto ma con la voglia di volerla vincere. E chiudiamo la nostra chiacchierata con un'ultima battuta. Non posso non chiedertela anche perché ho intervistato Nini Silipo che è stato il tuo allenatore. Che saluto quando vedo l'intervista, gli mando i saluti a Nini. Che effetto ti fa ritrovarlo come avversario sull'altra panchina? Guarda, io sono molto legato a Nini perché comunque mi ha allenato per tanti anni e comunque abbiamo passato tante gioie e dolori dei vari campionati che abbiamo affrontato. Ci siamo affrontati nel torneo di potenza ed è stata una sensazione piacevolissima incontrarlo, abbracciarci prima della partita e farci l'in bocca al lupo. E' una sfida che per me, ma credo anche per tutta la società, non può non tenere in considerazione dal punto di vista emotivo delle emozioni che abbiamo trascorso negli anni passati. Non può che avere un significato particolare. Poi, sotto altri aspetti, è una partita come tutte le altre che cercheremo di affrontare con il massimo della concentrazione. Va bene, siamo così al termine della nostra chiacchierata. Ringrazio Mr. Bruschini per essere stato insieme a noi e do appuntamento ai nostri spettatori per la prossima puntata. Ciao Mr. Grazie. Ciao Andrea, grazie. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti.